Salve ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo appena torna da Lidl e abbiamo fatto una bella spesa devo dire. Abbiamo speso la bellezza di 98 euro 0,06 centesimi però calcolate che la spesa rifacciamo anche una volta al mese. Non riesco ad andare sempre quindi è una spesa bella grande. Partiamo subito con i suggelati così li metto subito a posto. Allora prendo sempre due pacchi di questi qua, cuore di carciofo, i 300 grammi, li trovo benissimo, li faccio con la pasta o con la pasta sfoglia. Poi acquisto ultimamente questi bastoncini di pesce di filetto di merluzzo di Alaska, questi che devo dire la verità sono molto simili ai classici Findus che costano molto di più perché sono di marca o meglio conosciuti. Poi acquisto da anni sempre Taverna Giuseppe Oliva Scolana e pronte in 5 minuti, ovviamente fritte, quindi in olio molto bollente si fanno veramente subito. Buonissime queste le compro sempre e della stessa marca acquisto sempre anche le mozzarella impanate anche queste qua fritte in 4 minuti. Poi sempre stessa marca patatine fritte queste qui, stick house che sono un po' più doppie e devo dire la verità che queste sono molto buone, le faccio in forno però aggiungo sempre un po' di spezie particolari tipo bbq, queste cose così e vengono ancora più buone, anzi vi consiglio di aggiungere anche un filino d'olio perché con l'olio vengono più saporite quindi ottimo anche queste. Una cosa spagnola quindi la paella di pesce di questa marca qui perché mi ricordo almeno un anno fa c'era un'altra marca di paella che era ancora più buona di questa qua, non so perché non l'ha portata più ed era anche mista se non sbaglio, questa qui, no questa pure è mista sì, da qui si vede, quindi è carne e pesce però vi consiglio di farla cuocere proprio bene 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 aggiungendo anche qui un filino d'olio perché qua dicono circa 16 minuti, se non sbaglio l'altra volta 16 minuti, era un pochino cruda, non so, non mi è piaciuta, quindi vi consiglio di farla cuocere un pochino in più a fuoco lento, ovviamente con un filo d'olio. Poi partiamo con San Valentino, dei patti suggelati, c'erano questi cuori di patate, penso anche questo in forno, a forma di cuore appunto, e si possono fare sia fritte, addirittura si possono fare anche con quella d'aria, la frigidecia d'aria e al forno a 200 gradi e li proveremo perché è la prima volta che vedo questo marca onestamente alla Lidl, mai visto? O meglio San Valentino, forse non sono mai andata quindi non lo so, sempre tema San Valentino a forma di cuore, cuore di pizza con salto di pomodoro e mozzarella, troppo troppo darina anche perché è a forma di cuore diciamo che sono un po' in fissa con i cuori e ho detto proviamola, questo è San Valentino facciamo una ceretta super romantica. Allora, posate sui gelati e continuiamo con le cose da fritto. Allora, come sempre le pannotte queste papprecotte bollite rapidamente, le faccio in padella con il muro, buonissime, queste palle vedo sempre, poi 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 tre di questi drink al cioccolato al latte che costano circa circa 90 centesimi, il prezzo è buonissimo e sono veramente buoni, le ho quasi tre pacchi, poi le ho vantanate, i bastoncini, i filini, buonissimi e questi li faccio a pezzettini praticamente con olio, sale, limone e prezzemolo e se volete anche un po' di mozzarella vengono buonissimi, una ricetta diciamo molto estiva. poi era in offerta mozzarella, questa qua della Meridio, sul latte italiano ed è la tussa da 500 grammi, ne escono 4 all'interno da 125 e questo dato che scadeva praticamente il 16 febbraio era praticamente la metà se non sbaglio in offerta, quindi la usarei questi giorni, poi ho preso nel formato XXL pancetta fumigata a cubetti, questa qui, poi soli gnocchi nonna mia, questi qua ripieni di mozzarella e pomodoro e l'altra volta ho provato quelli con all'interno il pesto e devo dire la verità è molto buona anche quelli a pesto, quindi due pacchi di questi, poi sempre in tema San Valentino della stessa marca, questa qui di For You, che vi ripeto non conosco, ho preso mini dessert macarons, 6 pezzi, guardate che belli che sono, sono veramente belli, ci sono due con la meringa, due questi qua con i macarons rosa e sotto vedo 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 con la noce, il cioccolato, comunque li proveremo sempre a cena a San Valentino, con che cosa? La pizza che avete visto a cuore però a pranzo volevo fare, ho questi, sempre la marca For You, cuori ripieni con pomodoro, mozzarella di bufala, campana, dop, guardate che belli, sono questi ravioloni rossi, appunto ripieni, 250 grammi ed è la prima volta questi che li vedo e li provo e li vuole fare a pranzo oppure a pranzo potremo fare questi cuoricini di patate, quindi questi qua sono dei mini gnocchi diciamo, dei gnocchi a forma di cuore, appunto bianchi, chiari e rossi, troppo troppo carini, non potevamo imprenderli a forma di cuore, troppo me, troppo me e mi ho presi appunto due pacchi, magari sono schifo però ho visto la forma a cuore e ho detto no, devo prenderli perché mi fanno impazzire. Poi era in offerta, crema di carciofi e knolle questa qui, anche si prepara velocemente, questo qui diciamo che è un salvacena, veramente di sera capita spesso, non potete cucinare, in preparo una di queste qua, comodissima, ne ho prese due perché era in offerta, se non sbaglio costavano almeno di un euro, quindi vi segnalo che c'erano queste qui di varie tipologie ovviamente in offerta. Poi la polenta Val Sudana, la classica, questa qui molto buona, ovviamente per queste serate fredde ci sta, con il sub, magari con la salsiccia e la faremo. Poi vabbè, carote, c'era un'offerta alle carote, costava un metro di un euro, un bel pacco di carote, poi ho preso dei peroncini verdi, classici quelli che si trovano a Lidl da fare appunto con la pasta, oppure semplicemente fritti. C'era anche un'offerta, questi pissini qua della Celtosa, a 50 centesimi, quindi prezzo top, vabbè in genere costano circa un euro, costano molto, però costano la metà. Però se non sbaglio, soltanto questi qua, a 50 centesimi, non l'altra versione, quindi vi segnalo anche questo. E ne ho presi due, già aperti, tra l'altro, e un'altra cosa che abbiamo aperto, va bene, Kinder Bueno, e in macchina ho mangiato noci con mele, noci con mele e sale, questi qua di Alesto, penso che li conoscete quasi tutti quanti, ragazzi sono una droga, cioè Alesto fa delle noci, noccioline, che sono una droga, io non ce la faccio. Le ho prese tutte le versioni possibili e immaginabili, infatti già l'ho mangiata in macchina. Poi lo hacker con cioccolato al latte, farcini con crema alla nocciola, questi sono buonissimi. Poi una cosa super figlia, che è la prima volta che è arrivata a Lidl, se non sbaglio, e hanno portato questi qua, quindi sicuramente non li porteranno sempre, i waffles, questi qua doppi doppi con la cioccolata. C'è anche la versione semplice, quindi con meno cioccolato, cioè no con meno cioccolato, senza cioccolato praticamente, la confezione è da, la confezione è da 325 grammi e sono tutti in monouso, in modo che apri soltanto quello che vuoi mangiare e gli altri non si seccano. E quindi proveremo questi qua con ovviamente per nutella e panna. Poi a questo spesso, sempre della cetosa, i panini hamburger, questi qua, un pochino più grandi, spaghetti, pasta di gragnano, trafilata al bronzo, di taliamo, anche questi li prendiamo spesso quando siamo lì, latte intero ma il buona, a lunga conservazione, anche questo lo prendo spesso, e sempre li tagliamo, sugo di pomodoro con basilico. Ovviamente ragazzi sto andando a random, senza un senso logico, e per non sbagliare e dirvi tutto, guardate che sto facendo, sto cancellando a mano con la penna quello che vi ho fatto già vedere nel video, quindi immaginate il caos. Ok, adesso prendo le altre cosine di barattolame. Nel reparto frigo mi ero dimenticata di questo qui, panna da montare, latteria, questa qui è buonissima, questa marca sia per quanto riguarda i drink al cioccolato che quelli la praticamente la panna per fare la pasta, panna da cucina, quella veramente buona, sembra la chef, lo dico sempre. Poi ho preso nel reparto appunto barattolami, ho preso un misto di funghi con porcini, questi qua conditi, molto buoni, di questa marca sempre baresa, e poi ho preso anche i funghi interi, questi qua, i piccolini, poi sempre tema funghi, funghi alla pizzaiola, eccoli, questi sono ottimi vicino appunto alla carne, comunque come contorno ci sta, e poi ho preso olive verdi denocciolate, sempre baresa, di quest'altra marca ho preso piselli finissimi, in latta, sempre il latta stessa marca, ovviamente il mais quello là già precotto, che faremo in padella con il burro bello tostato, e poi di quest'altra marca fagioli e borlotti. Poi abbiamo preso saquella caffè espresso crema, gusto forte, questo qui anche lo voglio provare per cambiare, e qua vedo che ci sono varie tipologie, tutti i colori del gusto, li proveremo tutti quanti, perché a volte, ripeto, si pagano solo le marche, solo perché sono famose, quindi voglio sperimentare, proveremo anche questo. Ok, partiamo con i dolci, la cosa più interessante, allora, gli snack questi qua dei, al gusto di arachidi, questi buonissimi, anche li prendiamo sempre, alesso che vi dicevo prima, mandorle californiane, poi ho preso, ed era in offerta, queste ve le segnalo, poi arachidi queste qua classiche, da fare per aperitivo con una bella birretta, sempre vi alesso le mie amate bbq, adoro, poi, quindi in realtà non è dolce ragazzi, ma è salato quello che avete appena visto, ho detto dolci, perché arriveranno adesso i dolci, e quindi, preso, questi qua simili agli smarties, al cioccolato all'interno, sono buonissimi, costano tipo un euro, veramente buoni, le mie amate caramelle al latte, diciamo che sono un gusto mou, panna e caramello, una cosa divina, poi, queste qui, che sono molto molto simili all'alpe libe, anche qui sono buonissime, veramente, sono un'ottima copia dell'alpe libe, poi l'anno scorso ho scoperto questo dolcino al limone, mai pensavo fosse così buono, devo dire la verità, ottimo, se amate limone provato, è veramente ottimo, c'è anche la versione al cioccolato, se non sbaglio, versione stracciatella, ma questo qua è quello migliore, secondo me, perché le ho provate gli altri, e non sono uguali, poi ho visto da una youtuber che seguo, questa cioccolata qui, e dice che è molto buona, ma proviamola, cioccolato bianco e fragola, in genere queste cose mi piacciono, quindi la proveremo, e poi che fai, non la prendi, vedi questo maxi barrettone di cioccolata, di pieno, con biscotti, cioccolata, cosa c'è qui dentro, panna, crema, non lo so, ciocco, biscuit, che fai, bisogna provarla, e c'erano anche queste qua, di vari gusti, ovviamente ho preso quella che per me, secondo me, è più buona, poi sempre della sundae, canestrelli al forno, questi qua, buonissimi, anche sono un'ottima copia della marca, diciamo, più famosa, poi spogliatini glassate per Leandro, e amaretti, anche questi, diciamo, per mio padre e per Leandro, perché a me non piacciono proprio, poi volevo provare queste patate, le spaccarelle, si chiamano, al forno, con la buccia, olio, sale e pepe, ricetta consigliata della marca Torti, queste qua piccoline, queste quelle le voglio fare qualche sera, come sempre ho acquistato della Sien, i dischetti maxi, questi qua, 100% cotone, 70 pezzi, questi qua li prendo sempre sia per me che per Jennifer, e ho preso anche la versione piccolina, quindi due di queste e due di quelli piccolini, poi nel reparto, diciamo, detersivi, ho preso della marca V5, questa spugnetta con, vedete, con il manico così, e si può anche staccare, quindi si può cambiare la spugnetta, appunto, non so dove le prenderò così piccoline, perché sono difficili da trovare, però la proveremo, e costava nemmeno un euro, se non sbaglio, poi cosa super super carina della Deluxe, ho preso questo diffusore ambiente, Calming Wood, forma di albero, troppo troppo bello, costa circa 7 euro, qui dice che al dolce aroma fiorito del mughetto, unito alle note legnose, quindi hanno fatto appunto questo albero, lo vediamo subito, il contenitore qui è in ceramica, esce all'interno il profumo, adesso lo sentiamo, il profumo non è che mi fa impazzire, speriamo che mettendolo all'interno sia più buono, poi escono ovviamente questi due rami, diciamo, d'albero, che si mettono così, ecco, va messo qui all'interno, poi c'è questo tappino così, e questi alberelli fatti, diciamo, una specie di cartone, per farvi capire, che dovrebbero assorbire appunto il profumo, il liquido, però c'era questa versione qua in nero, con il ramo così più scuro, e la versione bianca, con il ramo più chiaro, la preferivo bianco onestamente, però i rami erano più belli questi qua, e con questo abbiamo terminato la maxi spesa da Lidl, quindi io vi saluto, vi mando un forte bacio, e mi raccomando, seguiteci, perché arriveranno tantissimi altri video, non solo di Lidl, ma anche di altre cose, quindi non vi resta che seguirci, vi aspetto al prossimo video, ciao!